Pronto? Sì, ciao caro, volevo sapere a che punto sei. Sì, io sono davanti al banco, Matt. Ma come? Dovevi avvisarmi, scusami un attimino prima, così mi preparavo anch'io. Eh, boh, sono qua adesso. Vabbè, inseris il banco, Matt, dimmi passo per passo un GTS, così vediamo la transazione, dammi tempo del mio invenzione che mi attendo qua. Devo digitare il codice, anche? Il codice, scusami. È il codice del banco, Matt? No, dimmi cosa ti chiede, non è che devi dire il codice del banco, Matt, che... Ah, no, non serve. Devi dirmi cosa ti esce, poi che... vediamo. Ah, ho capito. Perfetto, dimmi pure cosa ti esce, se dice il banco, Matt. Mi esce, che non devi prendere per il culo la gente, eh, quello mi esce. Hai capito? Perché sai con chi hai a che fare qua?